La poesia sotto il cielo della libertà esprime ideali di libertà e di conoscenza. Tutte le immagini di questo album nascono dalle nostre descrizioni testuali diventate pronte per l'intelligenza artificiale. Ogni persona ha diritto alla conoscenza per un'intelligenza collettiva e per crescere insieme nel rispetto reciproco. Ci siamo avventurati nell'intelligenza artificiale e abbiamo dato forma ai versi della poesia con tanti prompt elaborati da noi bambini. Ci siamo divertiti tantissimo. Dove la mente non conosce paura abbiamo richiesto all'intelligenza artificiale un ambiente di libertà dove ognuno di noi si è avvicinato al sapere senza paura. E la testa si tiene alta, come in questa foto, nata con un prompt di persone che guardano in alto verso un futuro pieno di dignità e speranza. Noi bambini lo immaginiamo così. Dove il sapere è libero a tutti. Il verso ci ha ispirato un prompt molto creativo e l'intelligenza artificiale ci ha regalato un tripudio di colori. La ricerca della conoscenza è libertà. L'apprendimento non ha confini. Dove il mondo non è chiuso dalle pareti di una casa. Il nostro mondo non può essere ingabbiato. Abbiamo suggerito all'intelligenza artificiale tanti bambini che aprono la mente umana alla libertà e la incoraggiano verso nuove idee. Dove la mente è indirizzata a te. Ogni persona vive la sua spiritualità. Noi in classe le abbiamo dato la forma delle nostre piccole mani. Indirizzate verso il cielo. È il simbolo di ciò che non conosciamo, ma che ci spinge a seguire valori educativi sempre più alti. Verso pensieri e azioni sempre più grandi. La foto è nata perché il prompt si è ispirato alla bellezza di apprendere insieme, come segno di crescita nella mente e nel cuore. Sotto questo cielo di libertà, padre mio, il verso ha ispirato un prompt dal taglio spirituale, tante mani verso l'alto, nel segno dell'accoglienza per una società più significativa, consapevole e responsabile. Fa che il mio popolo si desti. La poesia si conclude con il desiderio di libertà, da ogni chiusura mentale e con la speranza di un'apertura a nuovo. Chi l'avrebbe mai detto di far dialogare una poesia con l'intelligenza artificiale? Con questa attività abbiamo analizzato una poesia, anche con l'intelligenza artificiale, che ha seguito le nostre richieste e ha dato un volto ai versi. L'intelligenza artificiale aiuta la crescita intellettuale delle persone. A un uomo di bambini ha dato uno strumento per apprendere e divertendoci. L'intelligenza artificiale rende le aule globali, consente di abbracciare il diritto alla conoscenza, libera a tutti. La nostra mente ha viaggiato fuori dall'aula, è andata nel mondo della poesia, lo ha colorato ed è tornata più ricca di sapere. Per noi bambini, unire la poesia, che nasce dal cuore all'intelligenza artificiale, è stata una prova dell'uso etico della tecnologia. Abbiamo imparato un semplice ma prezioso passo di responsabilità per le scelte del nostro futuro. Spero vi sia piaciuta la nostra avventura. Il dialogo è l'abbraccio inclusivo tra la poesia e l'intelligenza artificiale, ci ha davvero immersi nella libertà. Ognuno ha generato pensieri nuovi, che hanno preso forma davanti ai nostri occhi. La nuova era dell'intelligenza. Il dialogo con l'artificiale. Noi siamo pronti, e voi?